L'Avvocato Giampiero Mancarelli, presidente di Chima Ambiente, la presentazione quest'oggi della applicazione Riciclario, come dire una battaglia di civiltà abbinata alla tecnologia. Ormai tutti facciamo uso di uno smartphone e delle relative applicazioni. Assolutamente sì, ormai il cellulare fa parte della nostra vita quotidiana e lo è anche per la raccolta differenziata. Un'app completa grazie a Consea che ci ha fatto questa nuova applicazione che è Riciclario, che consente quindi di poter utilizzare lo smartphone per migliorare la qualità della raccolta differenziata. Un esempio su tutti, intanto c'è lo scan code con il codice a barre, scansionando dalla cellulare utilizzando l'applicazione Riciclario, si può riscontrare dove correttamente conferire il rifiuto. Quando noi abbiamo dei dubbi, andando sull'applicazione e andando sul codice a barre, possiamo completare in maniera aggerbata il conferimento del rifiuto. In più oggi abbiamo un sistema che si integra a quello del numero verde che è 800 013 739 e quindi può consentire al cittadino di andare su una finestra e quindi inserire le foto degli ingombranti di cui si vuole disfare e quindi avrà successivamente un SMS in cui verrà accompagnato fino al conferimento del rifiuto che sarà presso il proprio domicilio completamente gratuito. Grazie a tutti!